ed altre dimensioni cerchio firenze 77 essere divenire a cura di vb dali la pace sia con voi e con tutti gli uomini il mio saluto e la mia benedizione a tutti voi figli che qua siete raccolti in attesa delle nostre comunicazioni o del nostro messaggio noi con grande gioia e amore rispondiamo alla vostra invocazione e come ha detto la sorella teresa cerchiamo di darvi sempre nuove prove di questo contatto di questo meraviglioso legame che esiste fra la dimensione fisica ed altre dimensioni anche più sottili a ciò che voi possiate continuare la vostra opera di testimonianza presso altri certo il nostro scopo come ripetuto più volte non è quello di dare testimonianza del fenomeno fisico lo facciamo ugualmente ma è sempre come un supporto un corollario di quella che è essenzialmente la ragione della nostra venuta figli che voi sapete essere di insegnamento per portarvi quelle cognizioni quei concetti che possono aiutarvi a comprendere meglio la realtà nella quale vivete e nella quale tutti viviamo se facciamo di questi fenomeni è perché voi siate certi di non essere a contatto con qualcosa di umano semplicemente ma con qualcosa che trascende la dimensione umana colgo l'occasione per ringraziare il figlio gianni per quello che egli ha fatto per divulgare i nostri messaggi ringraziamo non solo lui ma i suoi collaboratori e tutti voi che in un modo o nell'altro contribuite a far conoscere agli altri quello che avete ricevuto vi abbraccio tutti grazie 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 grazie